Non si è mai pronti all'inevitabile. Nessuno sa come comportarsi durante un incidente aereo, un terremoto o davanti a un'eruzione vulcanica. Io sono Valentina Poddiche e questo è Mayday. Un podcast voice in cui vi racconteremo storie di persone che queste esperienze le hanno vissute per davvero. Persone qualsiasi, come me e te. Ascolta Mayday sulla tua app di podcast preferita. Secondo me un aspetto fondamentale che ha agevolato la carriera del matador uscito da nuova scena era il fatto che comunque il singolo di lancio finale avesse quella base intimistica e emotiva di storytelling personale rielaborato poi anche in una chiave molto leggera. cioè il suo slang comunque prende il dramma e lo mette in una posizione che lo rende abbordabile alle orecchie di tutti. E in più che poi c'è il cambio e diventa divertimento, lo sguazzo totale. Ma ora sono il matador e il colpo di maschera, no? Però quel lato intimista era fondamentale nel personaggio. Adesso il matador è diventato l'artista che fa solo musica stupida e si è messo anche lì con Nello Taver, per carità, simpaticissimo lui, simpaticissimo il Mata. Però dopo Vaniglia era necessario pure questo. Cioè nel senso, purché uno dice dai poi a settembre torno, poi faccio la traccia seria. Però nel senso, c'è anche tutta questa promozione di Vaniglia sui social, anche simpaticissima. A me fa morire il matador. Cioè però siamo sicuri che questa roba poi non va a screditare un po' una carriera che era partita bene. Era partita bene, poi lui magari aveva una sua carriera prima che era più coerente a questa. Non lo so perché non lo seguivo. Però secondo me il matador era arrivato al punto in cui doveva lanciare una bomba dopo l'altra. Ok, Vaniglia, il featuring. Ma una volta che hai fatto quella... E mettiti di impegno e rifacci un'altra bomba seria però. Perché la gente la sta aspettando. Sì poi, su tutti i featuring, i miei discorsi lasciano il tempo che trovano. Però è detto che poi le persone non si stufano. Guardate raga che le persone veramente... Cioè oggi sei il loro idolo. Due canzoni dopo non gli arrivi più. Non gli arriva più la tua canzone proprio. Quindi secondo me sta un po' a rischiaffa tutte queste giocate. E in più adesso sale la sticella. Cioè adesso a settembre dovrà veramente spaccare cento volte più di quanto ha già fatto. E non è scontato. Perché il meglio, secondo me, l'ha dato, l'ha raccontato. Cioè nel senso, si dice, no? Il primo disco racchiude tutta la tua vita. Io credo che il Matador finora abbia racchiuso la sua vita. Ora deve raccontare qualcosa di nuovo. E deve farlo con la stessa autenticità. Ce la farà? Riuscirà a rimanere comunque in una condizione che lo può far galleggiare in questo mondo mainstream? Non lo so. Oggi Voice ti consiglia Ciao, sono Zoe Epifani. Se cerchi il podcast perfetto per motivarti e fare il tuo glow up nel 2024, And Now What? è proprio quello che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ci vediamo lì. Ciao. Grazie a tutti.